Salamazione ragazzi, benvenuti all'italiano Grazie a tutti, benvenuti al canale, oggi faremo il gelato, rosa, mangos Ingredienti, ciò mandua, stai attunz, che non lo vanno a subscribe, che non lo vanno a tombol bell Ok, adesso andiamo a vedere gli ingredienti, abbiamo mangos, 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 arros, yammatang, un po' Un po' e ripo di rostro, un po' sal unity, andiamo a 2 o 3 maggi 2 peggio, di 1ope 1-2 puc e ripasare il pietro e ripasare il pietro ok ragazzi, ripasare il pietro ok ragazzi mancagna su dati potono crescire, quando vogliamo pesare, potono vettere più crescire da un'antica pan di blender, inizia da parte se chiede articardosi un po' pulo gramma e daging dali manca, se carano articardosi un po' pulo grammi crema, clava susu, che da tambien della bambu lumi, ok, let's go ok ragazzi, mancagna su qui, ora mettiamo dentro del blender semplice, 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 mancagna, ok, mancagna su da, vediamo da un po' pulo mili, su su canta, da clava, 2-4% le mancagna, iar le bia luce, un po' ok, dan un po' pulo a Grazie a tutti. Ok ragazzi, here we go, c'è un po' di soda di champur, di mixer, c'è per tenere l'extensione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, now we take out the ice cream and flip like this, ok? And then we cut in small pieces, like this, so it's easy to blend later, yeah? Because we have to blend one more time. Ok? Ok guys, now we're gonna put the ralat-alat. And then we're gonna put all the cream in the mixer, yeah? And then we're gonna put the ralat-alat. Gelato is done. Perfect texture. Ok guys, for today we are done, hope you enjoyed this recipe. Let me know in the comments if you like it and see you next recipe. Don't forget, subscribe, disney, like, share and long chain. See you, thank you, bye. Yes... enough D hard, everybody... Here we go.